Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, diciamo, di Cars Motori Urgenti. Vi volevo far vedere la carrozzeria artistica di Ramon e di tutte le varie vernici che si possono avere, ma dopo riusciamo con quella che abbiamo, ve li faccio soltanto vedere. Ho visto un auto a Las Vegas con questa decorazione. Ah sì? Wow, no scherzi dai. Ecco, questa è una delle... una verniciatura di setta, questa è carina. Aspetta che vi faccio una specie di esposizione, ecco. Guardate, eh. Ecco qui. Molto bella. Poi il 95 giallo sulla fiancata è bello un bel po'. Poi, c'è questa qua, questa è bellissima, è la mia preferita. Questa gialla e celeste, troppo bella. Eh ma è uguale, eh. Solo che i colori che cambiano. Ramon è proprio un mago a dipingere. Ecco, questa invece è... anche questa è bella, però questa mi dà un po' fastidio, perché è rossa. Il rosso è bello, ma mi dà un po' fastidio. Se invece c'era il viola, ero più felice. Ma fa niente. Ecco, anche questa è bella, è tutta fiammante, eh sì, anche questa. Questa è la mia seconda preferita. No, aspetta, qual'era la mia seconda preferita? Sì, no, non era questa. No, questa non è, però anche questa è bella. La mia seconda preferita... La mia seconda preferita... Ma ce ne erano tutti i cavo, guarda quell'auto. Eh, guarda quell'auto, eh, c'è poco da scherzare. Ah, ecco, questa è la mia seconda preferita. Col 95 sulla fiancata, bellissimo ragazzi. È una figata. Questa è la mia terza preferita, dove c'è scritto Lightning McQueen, bellissimo. Eh, vabbè, questa invece è quella che saetta sempre. Vabbè, usciamo, va. Usciamo dalla carrozzeria di Ramon. E dai, veloce, non perdere il tempo. Ah, questa musica è bella. Me la faccio sentire. Fighissima, ragazzi. Intanto faccio vedere una sfilata di saetta. Ecco, il retro è molto bello. A me piace specialmente la fiancata. Il 95 è bello come colore. Non c'è più, sono anche i russi, sai te? Ecco, una cosa che mi dà un po' fastidio. È che lì le ruote affondavano. Questo invece è il suo antiruggine. Rastis. Figo, ragazzi. No, non voglio andare da religione. Facciamo un gioretto, va. Un bel gioretto. Facciamo un girettino. Tatanaradà. Tatanaradà. Ah, e siamo a 3 minuti e 15. Beh, dai, meglio se smettiamo. Ciao, ragazzi. Ci vediamo.